Vetreria Majorana, passione, valori, è un'esperienza lunga vent'anni L'azienda è specializzata nella produzione, lavorazione e rifinitura di vetri e superfici specchiate Realizza specchiere antichizzate e moderne, incisioni lineari, sagomate, ornamentali e disegno, cristalli madras con molatura Altro cattedrale colorato, cristallo antifurto blindoviss antimazza, box doccia, porte scorrevoli ed arredamento satinate, vetrate isolanti e termoacustiche, cristalli per tavoli con basi, scrivanie, mensole, librerie, vetrofusione